Eccoci qua con il video forse più atteso di questo mese La mia personale prediction dei mondiali in Qatar Qatar 2022 Veramente sono gasato perché i mondiali nonostante l'Italia mancherà Che è una cosa veramente bruttissima Vedremo i mondiali in qualcosa di spettacolare È il primo mondiale che vedrò in maniera dettagliata Visto che l'ho visto già un altro 4 anni fa ma non me lo ricordo proprio bene Quindi sono contentissimi personalmente di vedere i mondiali E oggi andrò a fare la mia personale prediction dai gironi fino alla finale Ovviamente ragazzi voi mi direte Ma se gli ottavi, i quarti, i semifinali e le finali non sai le squadre come fai? Io cosa andrò a fare? Andrò a dire le squadre che passeranno quindi prime, seconde, prime, seconde E andrò a dire proprio chi secondo me beccheranno le proprie squadre Gli ottavi, quarti e semifinali Perché veramente io so già, cioè nella mia testa ho già la squadra secondo me che vince il mondiale Ve la dirò alla fine Però oggi andremo a analizzare diciamo tutto Spero verrà un video non più lungo di 30-35 minuti perché veramente parlerò molto E spero di dedicare il meno tempo possibile a ogni girone perché se no stiamo qui 30 anni Anche poi agli ottavi, quarti, semifinali, finale Allora in questo video vedrete anche delle grafiche molto interessanti perché Adesso vi andrò a parlare del primo girone composto da Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda E qui sotto vedrete proprio il girone messo tipo una specie di collage Vedrete tutto a schermo e i quattro giocatori più forti per ogni squadra Ci ho messo 30 anni a farlo, cioè veramente mi sono sbattuto Ci ho messo tante ore però sono contento di ciò che ho fatto Infatti ho anche rinunciato a qualche ora di sonno però poi l'ho recuperata E quindi a schermo vedrete i giocatori più forti di ogni squadra di questo girone Direi di partire se no siamo qui 35 anni sul serio Allora Qatar, allora il Qatar secondo me è una squadra che vabbè Visto che sarà la squadra ospitante di questo mondiale 2022-2023 Potrebbe essere una squadra molto insidiosa da affrontare Giocherà tutte le partite appunto nei loro stati che conoscono Quindi occhio al Qatar Ha dei giocatori interessanti come Afif Insomma come tanti altri giocatori E quindi potrebbe fare secondo me un buon mondiale complessivamente L'Equador Allora l'Equador sulla carta è anche più forte del Qatar Anzi sicuramente più forte Ci sono giocatori interessantissimi come Incapi Scusate la pronuncia E Stupignan, giocatori che si conoscono Anche giocatori come Valencia Che prende ci sono due Valencia Non dico i miei nomi Pardon ma qui a schermo vedrete tutto E quindi secondo me l'Equador Sarà una squadra comunque difficile da affrontare Passando poi al Senegal Allora il Senegal sulla carta potrebbe anche essere forte come l'Olanda Cioè forte alla pari no È un po' più debole Però giocatori come Coulibaly Di A Rivelazione del campionato Mané che alla fine farà qualche partita al mondiale Nonostante le infortuni che ha avuto al Bayern Monaco Anche Mendy Cioè il Qatar Cioè sì il Qatar Il Senegal è una squadra molto molto interessante E quindi secondo me potrebbe fare un ottimo mondiale Per quanto riguarda invece l'Olanda L'unico dubbio che ho sull'Olanda è sulla natura Perché l'Olanda sulla carta è veramente una grande squadra Cup Miners Depay Lang De Jong De Ligt Cioè sulla carta è veramente una squadrona Fatta da giovani talenti L'unico dubbio appunto è che è sull'allenatore Perché Van Gaal con l'Olanda non ha fatto benissimo E quindi potrebbe diciamo Zoppicare questi mondiali E vuole fare un gran mondiale Comunque per me allora Passerà da prima l'Olanda Che secondo me è comunque più forte delle altre E seppur secondo me con qualche difficoltà L'Olanda passerà da prima Diciamo che da seconda È rotta secondo me tra Qatar e Senegal Principalmente Però secondo me ai mondiali Conto soprattutto il gruppo Come all'europeo Cioè all'europeo l'Italia Chi la dava per vinca? Quasi nessuno Cioè all'europeo doveva vincere la Francia La Spagna Quelle squadre lì Invece la Francia si è formata Agli Ottavio Per il semplice motivo Che in queste competizioni Fa di un mese Conta molto il gruppo Quindi secondo me Passerà da seconda Il Qatar Può essere una sorpresa Per me passerà da seconda Sarà proprio Secondo me Un 50-un 50 Con il Senegal Però secondo me la spunterà il Qatar Terzo Senegal E quarta Ecuador Che vedo male Non malissimo Perché secondo me Almeno un punticino lo farà E questo è appunto il primo girone Allora il secondo girone è formato da Inghilterra Iran USA E Galles Sono quattro squadre che potrebbero fare comunque un buon girone Secondo me Sono quattro squadre Cioè io non vedo scontatissimo Il passaggio del turno dell'Inghilterra da prima Allora parliamo dell'Inghilterra Allora l'Inghilterra è una squadra forte Secondo me però Rispetto agli scorsi anni L'Inghilterra potrebbe accusare Di una mancazza di un allenatore Perché Southgate è un allenatore che non mi piace Di Una difesa decente Perché secondo me Beguire Stones Che si Stones è un buon giocatore Ma l'Inghilterra secondo me Non ha una grande difesa Ha un buon centrocampo Perché ha Foden Madison Ha un ottimo centrocampo Però l'Inghilterra quest'anno Cioè nel senso Come Nel girone Pardon La vedo bene Però Non lo so Per quanto riguarda l'Iran È una squadra che Ha rischiato anche di Farsi escludere al mondiale Lo sapete tutti per cosa Ed è una squadra Che comunque qualche giocatorino Forte ce l'ha Taremi Asbun C'è qualche talentino Ce l'ha Mi sembra anche Iana Bax Qualche anno fa Adesso non so più dove sia finito Diciamo che Però l'Iran Secondo me Boh Cioè non lo so Poi vi andrà a dire tutto Ma dopo Per quanto riguarda gli Stati Uniti Non so da quant'è che non partecipava Al mondiali Non me lo ricordo È una squadra che Ha di sicuramente dei buoni giocatori Come McKennie Politic Way Up Dest Adesso è una squadra Giovane E molto interessante L'unico dubbio È che Gli Stati Uniti Secondo me Ripeto Nei mondiali Conta molto il gruppo Secondo me Gli Stati Uniti Non hanno Un giocatore che Non hanno una super punta Che ti faccia All'entity Ti svolta il mondiale Ecco Per quanto riguarda invece Il Galles È una squadra che Partecipe ai mondiali Veramente Sa quant'è che non partecipava Al Galles Ditemelo qua sotto i commenti Se lo sapete E sarà una Immagino delle ultime Partecipazioni mondiali A giocatori come Interessanti Come James Come Come si chiama l'altro Non mi ricordo il nome Insomma Il Galles Qualche giocatorino Interessante Ce l'ha Però È quella che vedo Un po' più sotto Rispetto alle altre tre Quindi dico Inghilterra che è postata prima Da seconda Passerà negli Stati Uniti Da terza Passerà l'Iran E da quarta Passerà il Galles Che secondo me Sulla carta Il Galles è anche più forte Dell'Iran Però il Galles Non lo so C'è una squadra che Ha fatto bene agli europei Ha fatto bene Però Cioè Non lo so Ramsey Non so cosa farà Bale Diciamo che è un gran giocatore Però Bale Secondo me Non farà un gran mondiale Insomma il Galles È una squadra che non mi convince Particolarmente Allora il girone C Invece è composto Da Argentina Arabia Saudita Messico E Polonia L'Argentina Una squadra Vabbè Fortissima Sappiamo tutti Campioni Di Maria Lautaro Di Balak Vedremo se giocherà Tanto a questo mondiale Diciamo che Diciamo che l'Argentina È una difesa Buona Un centrocampo Buono E un attacco Disumano Cioè secondo me L'Argentina Sulla carta È secondo me A livello tipo Del È un po' superiore All'Inghilterra Ma inferiore Sì secondo me All'altra squadra Tipo la Francia È una squadra che può fare Molto bene Poi andremo a parlare bene Nel dettaglio Per quanto riguarda L'Arabia Saudita Partecipa sempre ai mondiali Ma penso che sulla carta Siamo una delle scuole più scarse Di questo mondiale Il Messico È una squadra Che ai mondiali Partecipa A dei giocheri Molto interessanti Come Lozano Jimenez Sia quello del Wolverhampton Che quello del Feyenoord Ochoa Che è un portiere Che partecipa Sempre Sempre ai mondiali Con il Messico Insomma il Messico È una squadra Molto interessante È un outsider Outsider È anche la Polonia Giocatori Principalmente italiani Cioè del campionato italiano Scesni Mik Zilinski Lewandowski Zalewski Cioè La Polonia Una squadra Molto forte E secondo me Sulla carta È anche molto Cioè È anche più forte Nel Messico Staremo un po' Insomma a vedere Allora Per quanto mi riguarda L'Argentina Passerà da prima Senza troppe difficoltà L'Arabia Saudita La vedo malissimo Ovvero Passerà secondo me Da quarta E lotta Messico Polonia Per il secondo posto Secondo me È un 55-45 Per la Polonia Anche se il Messico È una squadra Che Veramente Secondo me Ha stupito anche molto Al mondiale del 2018 Perché è passata Credo da prima In un girone Per niente facile Aveva Svezze Germania Corriere al Sud Però Quest'anno Cioè Non lo so È una squadra Molto interessante Però Vedo un pelino Favorita La Polonia Però Il dubbio Che ho sulla Polonia È che è una grande squadra Ma ogni anno Si dice La Polonia Farà molto bene Ogni anno La Polonia In ogni competizione Diciamo Tra squadre Solitamente delude Cioè Quindi Non lo so Per quanto riguarda la Polonia Può fare Un buon mondiale Però può anche Floppare di brutto Però secondo me La Polonia Passerà da seconda Quindi Prima Argentina Seconda Polonia Terzo il Messico E quarta L'Arabia Saudita Passiamo al giorno di Che è composto Da Francia Australia Darimarca E Tunisia Allora Partendo dalla Tunisia Che è una squadra ostica Secondo me Da affrontare Perché comunque Sono squadre Che ti fanno giocare Anche male Magari a calcio E forse sulla carta Però Una delle scuole più scarse Forse insieme alla Costa Rica Come giocatori importanti Vabbè Qui vedete Scramo tutto Mi sembra Kazri Un giocatore Che comunque Si conosce Per il resto Ragazzi Che vi devo dire Ce la conosco anche poco Questa nazionalità Alla mondiale Comunque ci partecipa Ci è partecipata Anche il 2018 Danimarca Allora Da Danimarca Secondo me Sarà molto interessante In questo girone Può fare Secondo me Buone cose Per quanto riguarda L'Australia È una squadra Che Comunque È Anche partecipata Il mondiale Il mondiale Il mondiale Il 2018 Ed una squadra Che può dire Sua Mentre la Francia È veramente Forte sulla carta Con Q Bappe Cioè veramente Ha dei giocatori Stratosferici Vedremo cosa riuscirà Sicuramente a fare Questo girone Però vi dico Quattro anni fa Potrà durare Come la Spagna Molto interessanti Per quanto riguarda La Germania Manca una punta Cioè non ha Quello che ti fa Magari Tanti con la mondiale Come che ne sono messi Mbappé Come Kane Non ha quei giocatori Lì Avers Però Insomma La Germania Non ha una vera Punta di riferimento Ecco Mentre per la Spagna Invece È una squadra Secondo me Molto Forte E Ha anche Giocatori Come Morata Che alla fine Ci ha fatto Recuperare Per il mondiale Ha giocatori Come Gavi Pedri Che sono stati Valorizzati Al massimo Anche da Luis Erique Poi c'è anche Veramente Tanti giocatori Molto interessanti Vi dico La mia Vi faccio La mia prediction Quarta La Costa Rica Terza Passerà Secondo me Da terza Il Giappone Seconda La Germania E prima La Spagna Per esempio C'è un motivo Che Secondo me La Germania È un ottimo Allentatore Flick Veramente Flick Ha vinto tanto Con il Bayern Monaco La Germania Potrebbe fare Molto bene Però La Germania Secondo me Gli ci vuole Tempo E io Credo Che la Spagna Sia un po' Più superiore Rispetto a questa Germania Devo essere Sincero La Spagna Sui medalha Tutto Sarà Probabilmente L'ultimo anno Di Luis Enrique Che allena una squadra Che allena una nazionalità Come la Spagna Per quanto riguarda Il Giappone Si è una squadra Molto interessante Però io credo Che farà Poca strada Onestamente C'è Io A livello di percentuali Vedo 80 Germania E 20% Giappone C'è il Giappone Abbastanza spacciato Gruppo F Bellissimo Forse Dove quello Che ci può riservare Sorprese Non ho idea Belgio Canada Marocco E Croazia Gruppo Bellissimo E il più Equilibrato Probabilmente Perché Partiamo dal Belgio Allora il Belgio Se non è una squadra Che si è indebolita Parecchio Rispetto a due anni fa Se non è la cosa È più debole Perché si è vero Lukaku Ma Lukaku Era infortunato Ed è infortunato Ah sì De Bruy Ma De Bruy Nazionale Non è lo stesso C'è Ah De Ketelar Ma De Ketelar Non sta facendo bene Insomma Sua carta Il Belgio È una squadra Forte Non dico Che sia fortissima Anzi Secondo me Il Belgio Sulla carta Ha giocato In manco Esplosivi Sì ok De Bruy E Lukaku Sono due campioni Però Secondo me Allo stesso Inghilterra È una squadra Anche più forte Per quanto riguarda Invece il Camio È una squadra Che particolarà I modelli Dopo non so quanto tempo Ha due giocatori Sicuramente di spessore Come Davis Ebbene C'è il palpettone E David Vedremo Se riuscirà a far strada Per quanto riguarda Il Marocco È una squadra Molto forte Cioè Il Marocco Sulla carta Secondo me È tipo Al pari Della Croazia Ziyech A Kimi A Bono Che è stato uno dei migliori Portieri della Ligan Cioè Non della Liga Sulla della Liga C'è una squadra Molto Molto interessante E veramente Staremo a vedere Quello che farà Vi dico La mia È un gruppo Secondo me Ci saranno Tante sorprese Passerà Il Belgio Da primo Da seconda Passerà Il Marocco Da terza Passerà La Croazia Mentre quarto Il Canada Vedo il Marocco Che si qualificherà Secondo Quindi La Croazia È una scuola Che non mi sa Né di carne Né di pesce Onestamente Mi ispira Molto più il Marocco Quindi Belgio Marocco Croazia Canada Passiamo al gruppo G Che è formato da Brasile Serbia Svizzera Camerun Bellissimo gruppo Pure questo Veramente Ci sono dei gironi Secondo me Bellissimi Di questo mondiale Gli accoppiamenti Su me Sono qualcosa Di epico Mentre ragazzi Le relative Ai mondiali Usciranno anche Un sacco di video Anche Dei bigliettini Faremo Il Gioco Appunto Sul sito Della EA Eccetera Eccetera Cioè sui mondiali Usciranno una marea Di contenuti Fatto sta Che vi dico Allora È un gruppo Molto interessante Possiamo far bene Tante squadre Partiamo dal Brasile Che è inutile dirlo È la squadra Secondo me Vi dico Secondo me È la squadra più forte Proprio Delle 32 Perché è la squadra più equilibrata Magari no Il Brasile non ha Un attacco come quello Dell'Argentina Però Il Brasile è equilibrato In tutti i reparti Ha una difesa buona Danilo Bremer Marchinhos Tejas Ha un centrocampo Buonissimo Casimiro Guimarães È un attacco Con Vinicio Santoni Era figlia La cosa che non mi convince Tanto di questo Brasile È che è una squadra Secondo me È un po' giovane Rispetto magari Alla Francia Che è qualche Elemento in più Secondo me Il Brasile È un elemento Un po' giovane E l'allenatore Sinceramente Non mi sa Né di carne Né di pesce Non lo conosco benissimo Però il Brasile Ai mondiali Del 2018 Era stata un po' La delusione Non aveva fatto I grandi mondiali Da quel che mi ricordo Per quanto riguarda La Serbia È una squadra Molto molto forte C'è Veramente Vlavic Kostic Mitrovic Ha veramente Dei elementi Subiti Interessanti Ilic Milinkovic Milinkovic Savic Il portiere C'è Milenkovic È una marea Di giocatori Interessanti Vedremo Perché la Serbia È una squadra Secondo me Molto interessante Passando però Alla Svizzera La Svizzera È una squadra Molto interessante Perché sulla carta È più debole Parliamoci chiaro Però Ai mondiali Ripeto Contro il gruppo La Svizzera Partecipano sempre A queste competizioni È una squadra Secondo me Molto sottovalutata E quindi potrebbe fare Un grandissimo cammino Eventualmente Ha dei giocatori Molto interessanti Come Bolo Sommer Wittman Ha tanti giocatori Interessanti E fa sempre bene A queste competizioni Per quanto riguarda Il Camerun Invece È una squadra Con tanti più giocatori Interessanti Tupo Motting Zambanghissa Unana Però Le squadre africane Generalmente mondiali Non fanno mai Devasto Quindi vi dico Camerun quarto Tra Svizzera e Serbia Una lotta Secondo me 50 e 50 Forse 52 Serbia 48 Svizzera Se la giocheranno Secondo me Fino alla fine Però vi dico Vabbè Quarto Cameron Terza la Svizzera Seconda la Serbia E prima il Brasile Ultimo girone Portogallo Ghana Uruguay E Repubblica della Corea Come cavolo si chiama Corea Republic Allora È un girone Diciamo che è una grande No Favorita Il Portogallo Che secondo me È anche il Portogallo Una squadrona Cioè secondo me È anche più forte Dell'Inghilterra stessa Non come il Brasile Ma è una squadra Molto interessante Ronaldo Per Renato Silva Veramente Leao Cioè Joao Felix Quanti giocatori Il Ghana È una squadra Molto interessante A Kudus Soprattutto Però Ha anche Dei giocatori Sicuramente Molto interessanti L'Uruguay Ha giocatori come Cavani Suarez Bentancur Torrera Neanche Tanti giocatori Per quanto riguarda La Repubblica Coreana Hanno Kim E Son Come unici giocatori Diciamo Di spessore Allora Vedo Diciamo Il Portogallo Favorito Il Ghana Può essere una buona sorpresa Può essere una bella sorpresa Anche l'Uruguay Secondo me Può fare molto bene La Repubblica Della Corea Non farà molto strano Infatti dico Quarta Secondo me Arriverà La Repubblica Corea Terza Secondo me Arriverà Il Ghana Nonostante Secondo me Se andrà a giocare Con l'Uruguay Seconda l'Uruguay E prima il Portogallo Perché secondo me È di netto La favorita Di questo mondiale Cioè no Non la favorita Di questo mondiale Ma una squadra Molto molto Diciamo interessante Con tanti giocatori Forti Quindi la vedo bene In questo girone Allora signori Passiamo agli ottavi di finale Appunto Vi leggo le fasce Allora Prima fascia Inghilterra Danimarca Argentina Portogallo Spagna Belgio Olanda E Brasile Seconda fascia Serbia Polonia Qatar USA Marocco Marocco Germania Uruguay Francia Due big di russo Francia E Germania Da evitare Il più possibile Ma secondo me Usciranno questi accoppiamenti L'Inghilterra Beccherà La Serbia Che in contro La Danimarca Secondo me Beccherà La Polonia L'Argentina Beccherà Il Qatar Il Portogallo Beccherà USA La Spagna Beccherà Il Marocco Il Belgio Beccherà La Germania Quindi big match L'Olanda Beccherà L'Uruguay E sarà Brasile Francia Allora Vi dico Chi secondo me Passeranno Tra Inghilterra E Serbia Passa La Serbia A sorpresa No La Tassa La Presa Manco Troppo Visto che Alla Sarebbe Un'ottima Squadra Tra Danimarca E Bologna Passa La Danimarca Argentina Il Qatar Passa L'Argentina Il Portogallo Oppure USA Il Portogallo Spagna Marocco Spagna Belgio Germania La Germania Olanda Uruguay L'Olanda E Brasile Francia Il Brasile Quindi secondo me La Francia Gli Ottavi Viene eliminata Da Brasile Che secondo me È una delle squadre Più forti Di questo Mondiale Allora Doveva aver fatto Tutto giusto E ovviamente Ragazzi Non l'ho detto Ma fate la vostra Prediction Qui sotto Nei commenti Perché sono curioso Anche perché Giuro che se Commentate tanto Vi leggo Vi leggo Tutti E vi lascio Anche un cuoricino Visto che Avete commentato Avete Diciamo Una Ricompensa Allora sto scrivendo Le squadre Per i quarti Di finale Ok l'ho scritto Tutte Perfetto Allora Allora ci sono Serbia Danimarca Argentina Portogallo Spagna Germania Olanda E Brasile Allora La Serbia Secondo me Beccherà Io dico Che la Serbia Becca L'Argentina Poi Quindi Serbia Con l'Argentina Poi La Danimarca Secondo me Si beccherà L'Olanda Il Brasile Si becca Oh cavolo Tre big match Clamorosi Il Brasile Si becca Il Portogallo Poi La Spagna Si becca Ah no no Non si può No Il Brasile Va In questo caso Con la Germania E sarà Portogallo Spagna Perché le scuole Le scuole Scusate Le squadre che Appunto Hanno già Effettuato il giro Insieme Non si possono Beccare Forse più Delle semifinali Non lo so Allora Tra Serbia E Argentina Secondo me Passerà L'Argentina Senza troppi problemi Tra Danimarca E Rolanda Passerà Secondo me La Danimarca Poi Tra il Portogallo E la Spagna Passa la Spagna Quindi fuori Ronaldo Secondo me Quindi Spagna E poi Rimangono Germania Ah no Però Germania E Belgio L'abbiamo già Fatto Eh no Tra Germania E Belgio Abbiamo Quarte di finale Quali sono Serbia Danimarca Argentina Portogallo Spagna Germania Olanda E Belgio Allora Secondo me La Serbia Perché era L'Argentina E passerà All'Argentina Tra Danimarca Olanda Secondo me Passerà Credo Sì Passerà Secondo me La Danimarca Poi Tra Germania E Brasile Passerà Il Brasile Poi c'è Portogallo Spagna Passa la Spagna Gli ho detti tutti Sì Quindi Le suoi sono quattro Argentina Danimarca Spagna E Brasile Secondo me Ci sarà Argentina Danimarca Quindi Bella sfida Bella partita Assolutamente E poi ci sarà Spagna Brasile Allora Tra Argentina E Danimarca Secondo me Passerà L'Argentina E tra Spagna E Brasile Passerà Il Brasile Quindi finale Argentina Brasile E vince Il Brasile Secondo me Questo mondiale In Qatar Lo vincerà Il Brasile Contro l'Argentina In finale Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate E qual è la vostra Prediction Ciao ragazzi